voi potete partire entrambi allora? l'audio è cremato non gli da a farlo partire l'audio è buono! è per davvero! è davvero buono! mi cominciamo che non mi lascia fare mi devo clicchare il cibo aspetta che all'interno ok allora idea che se ho proprio preparato introduzione ok, fatto fatto 3,2,1 3,2,1 3,2 un po' e poi non è un po' come era per andare dal marco il flash ipi faccio il 12 il maio per ogni cosa mi è decinto ma ciao tutti in Italia mi dice tolgo bojo via laca Anche T è però, eh. 12 Mino che credo, mino che credo, cioè Quante sei dovrete? 1 Va quindi da scrivere tp, slash, opererò file, slash, 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 12 Allora, quando ti metti slash, se un comando, poi te disi, quale comando te vuoi, sia tp, poi te disi, chine, te fa uno, quali te? Non sei lento qua, c'è paeta Non sei lui lento, ti senti lento che lo te sa fanno Allora, cominciamo Ciao tutti da 2012 Toio Boio Che questo oggi si è perso, ha fatto un po' di casino, non lo dobbiamo provare No sei mio Ehm Ehm Anche questo oggi proviamo, facciamo un gameplay di Minecraft L'avevo detto l'ultimo video che non l'avremmo fatto, lo facciamo comunque Ci troviamo e saluta in 3 Abbiamo il video di 2 Ehm 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 M twitter fatti esco no, ok ok mi mancava allora usatemi una casa come con il simile al numero di il tuo tempo mi dico mai un attimino dai lo sarà il mio proprio intanto da fare una casetta perchè come sa che sta venendo buio ok 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 qui insomma se temo per gli amnesi un buon legge ancora che i coglioni perchè te vi è sempre la vini l'altro vincolato ok ok una casa si è un rifugio dopo di che vedremo non rifugio si no 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 il mondo il mondo il mondo il mondo facile il cipro il pacifico il pacifico il pacifico il pacifico il pacifico lo pacifico il pacifico io faccio aiutare il fondo mi l'italia il fondo dove il mondo non lo c'è c'è no il silenzio il se vi ma il pubblico me credo cos'è un mondo si è un mondo io sono giusto la strega e mi sa che sia un mondo non vuoi costruire un piccolo cosa lei il mondo cosa cosa cambia per la famiglia la cosa quando è passato in alto a destra l'ho trovato a sinegno max per me che ho abbassato 5 anni quando sono porti 5. la cassa bonus l'argomento 2 se non so la sua l'attività ma si fa male insomma che abbiamo un po c'è un'idea un testo che probabilmente taglieremo finché non ho tutti i puggetti e lo farò di nuovo gioco la carina che infacile almeno la gente salida un buon giorno l'albero prima di registrare diciamo la presentazione adesso magari qualche giorno se volete fateci sapere in un commento qual è il vostro blocco da costruzione preferito un nerd livello migliore a parte gli scherzi no, no, vedo un creeper davvero un calcente coglioni, vedeva come rispondi a casa scoperta a casa senti hai la cosa, la visibilità della il personaggio e non compari più ah, la luminosità, vero vero opzioni, posizioni di video o rightless se per esempio right ah, si brillante ma cosa posso fare ancora? guarda quei due in alto a destra e basta eh, si, si andiamo un po' non mi dico finire oh, c'ho mi dico finire mi dico finire oh, c'ho all'attacco ma scusa ma che? mi stai lagando per esempio e il moto si è aperto oh, c'è puttana oh, c'è un altro aiuto mi sei un brincerato mi sei un brincerato ci sei un brincerato ciò papà, ciò papà che cazzo dai, dai, dai ciò papà ahhh aiuto, mi mangia il culo aiuto ci sei troppo da solo no, va via, aiuto io ho capito che vengono a quando devo morire go, mezzo po' de vita mezzo mezzo poi comunque viene iniziare a aserarsi dentro esattamente un'altra figata che ho montato è il fatto che non mi ha perso non mi ha perso non mi ha perso le sanno di lui allora quando si muore eh si non mi ha perso perchè non le vedo più non mi ha perso perché adesso non le vedo più lo muore quando serve altro degno no si si, si, camara leno, camara leno no, la 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 come passata la canota non ho fatto la canota oggi non no per me non è stato attuato adesso o la metà vita tutto adesso tutto adesso non capire il carico che il 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 In questa versione sembra che abbiano potenzione un pochettino di immobili, se non potessi scoprire, saremmo fuori della porta d'acqua. Il dindino sarebbe lucello, il dindino! come scoprirete in un prossimo ridoppiato il dindino musica mamma mia un po' di rarmi e no cosa sta succedendo per me la volta bell'avore oh! il figlio mi aveva già trovato la vita prima uuuh 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 ok... ehm... 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 ahahah 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 oh, ogni giorno oh, che bello allora forse gasborda ascoltare ho durato della notte evidentemente tu sei corretto per la ho finito più la notte te se cavi dai cojoni sto lavorando no 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 vittimini metteni insieme questa roba il cavalletto il nuovo il vero insieme alla stessa ruba io a roberta è vero la porta è vero cazzo ti sta disegnero tutti gli altri no la domanda che mi avevo anche la piscina da fuori a qua il bambino se anche diamante che si sente importante c accorso un nozombie non è un canale scoperto trattere la primavera netto no ma cosa è che la roba cosa è questo è uno zombie che sta giapando fuoco pratico di giochi e cose divertenti si vuole una persona migliore pressiglietto a cara con da cinque atto di un altro tipo a metà la roma roma tutta del cazzo c'è di tutte le cose che potevi dire questa la voglio essere efficiente capoletto un po' come un po' già il gioco in tutto il lavoro di un momento assolutamente letto poi ho letto di nuovo amore anche il testo poterio non beccato se la proposta per favore sono brunson perchè è tutto a proposito un pochettino volete il voleto scappa il bolletto merita rispetto fermo questo è la volta di tolba il nostro pezzo è un pochettino e che si sente che per favore il sapo è che via la resta parte il canto tutto lo so h basta in cessa tutto ma la parte del corpo coletto coletto che sei quando io lo parlo soffa che si sa che il mio uomo via via con l'uomo o riva un attimo torna e ma questa roma questa roma questa roma che cazzo è successo un uomo e tumore angile indirica ora sotto il 6 cactus non può farlo vado a besotto se non si può farlo anche l'opera accolpite il terreno troppo forte io con sei resta la che mi sto solo tutto in acqua l'ho fatto parla la capitale che è in una maniera aveva detto un uomo dvd la ricetta ma no bovente non direi che è un caldo diciamo non ho perso tutte le robe del sud l'ho appena fatto no 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 tu ti hai detto questo è un altro rido piaggio avevo appena fatto le robe ma tu dove rifarmi mentre che hai rifar tutto del capo dove vede le robe ho cosa c'è qualcosa ho detto forse no lo sono fatto male ho perso la parma vabbè l'ho perso la parma l'ho perso ma cos'è un po' mi sembra un po' la parma per me per me per me la parma ora parla ove la mia storia no no il dottor caldo ma buca capo regalato almeno una città fusi contente se qualcuno che si era un calcio in piccoli ognuno che non è stata fatta mario o misti come grifferare le persone vive mi ricorda lì ma che cazzo ma se ci si fa subito male buona spada non mi chiede io poi te morirà oh non lo trovo un posto carino per una piantagione a un pollo non è che anche loro chiesa è caduta l'acqua con un figlio no l'uomo non mi ha detto ma si su non cosa sta facendo ok non è nuovo anche perché te ne segui sempre poti una vita e poi la mia vita poi se non la guarda è proprio però per l'estate no la roma per il santo due volte con i diversi non picasso il gas da un piccolo un pick up che cazzo bastone figa ha messo tutti sti alberi così la cazzo e chissà chi ricaverà no se cosa sto facendo sto parlando gli alberi il non se stiamo compenetrando il diamante non non c'è una battuta solo ti che si diverti con sta roba a me la mi fai diverti con sta roba a me la mi fai diverti con sta roba cosa fa qua quella città si vabbè le vede a far entrare se è meglio perchè non ti fai entrare un po' se ne volevo tagliare un po' argilla tinta di grigio chiaro argilla tinta di arancione argilla tinta di bianco argilla tinta di rosso argilla indurita me tinta di la piazza p non 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 la piazza ma ma l'arri ma 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 via no la terra come la terra, lei si gregia si ma se ah questo qua è terra tutto terra tutto terra ah viennotte viennotte no no viennotte